il volfo dietro venga giù di là, qua si è già dall'altra parte Andorra può essere ... ... ... ... ... ... ... Grazie se fosse una pianta se fosse una pianta se fosse una pianta ma scusa ma noi dobbiamo andare su e quelli lì? e quelli lì invece? ah ah ok